Tragedia nel mondo del motociclismo per la morte del pilota francese Clement Stoll morto all'età di soli 27 anni dopo un gravissimo incidente durante un test privato a bordo di una Honda CBR 1000 RRR sul circuito Polarmagnac di Nogarò in vista del mondiale a endurance del campionato francese di superbike a cui avrebbe dovuto prendere parte in questa stagione il pilota è caduto sbattendo violentemente la testa sull'asfalto dopo essere stato rianimato è stato portato d'urgenza all'ospedale Purpan a Tolosa dove è purtroppo deceduto